ciao ragazzi bene allora oggi possiamo dire che l'inverno ha iniziato a fare su serio oggi abbiamo avuto più che oggi stanotte questa pioggia mista neve che gela abbiamo tutto bloccato dal gelo adesso le temperature stanno scendendo credo che supereranno i meno 10 e quest'atmosfera mi ricorda tanto la mongolia quando anche nel mese di maggio perché prima non sarebbe praticabile tu sei nel deserto e c'è una giornata di sole su di una maglia maniche corte fai 10 chilometri che ti trovi in un clima così con uno sbalzo di temperatura di 20 30 gradi e i mongoli non partiscono nulla una volta capottammo fuori strada io disse i miei due compagni di viaggio ragazzi ci siamo qua moriamo congelati perché c'era questo tempo noi ci vestimo al massimo ma morivamo di freddo il nostro autista siccome non prendeva il telefono inizio nel deserto io dissi secondo me ci ha lasciati qui e scriveranno poi di noi poi se ne arrivo dopo un po senza essersi aggiunto nulla di particolare una maglietta che teneva aperta e disse fra due ore arriveranno i soccorsi io disse non credo che riusciamo a sopravvivere due ore però invece poi riuscimmo all'interno di questa gico il motore acceso che però lui non voleva neanche tenere così attivo per evitare di consumare tutto il gasolio il bello che arrivò quell'altro che arrivava dal deserto e ovviamente eri maniche corte noi eravamo assiderati mettendo tutto ciò che avevamo addosso e lui ci soccorse salì scese dall'automobile attaccò il cavo fece di tutto e rimase con la manica maniche corte con la maglia maniche corte che va prima quindi non c'è da stupirsi che siano un popolo così forte che siano stati dei conquistatori in passato e che i loro cani anche siano così tanto resistenti loro dormono anche a meno 30 meno 40 fuori della iurta e del motivo per il quale questi cani che si chiamano bancar poi la natura gli ha offerto un vero e proprio tappeto di pelo infiltrito sia sulla coda dove loro si siedono sopra e sia a volte su una parte delle zampe ma anche sulla parte del loro mantello bene però oggi sono qui intanto con loro che c'è un po' ora assomiglia a un bancario ora secondo te io adesso devo fare il filmato ti sembra il momento perché è così c'è nel senso lui adesso si corica alla neve alla neve ed è una cosa incredibile quello che voglio dire oggi che cos'è vorrei parlarti parlarvi di quello che il ventunesimo dei 25 parametri che hanno fatto scegliere un po i cani da guardia alle persone e sono le razze che sono state più chiacchierate sui social perché i social come facebook come instagram come altri ancora adesso c'è questa attività dove la gente posta gli altri commentano mettono mi piace eccetera ma si possono creare veri e propri gruppi chiuse quali le persone possono chiedere di iscriversi che inizia tutto un chiacchiericcio fra persone che non sempre ma spesso sono solo condotte dalla passione da ciò che vedono nei filmati nelle fotografie ciò che gli entusiasma sotto il profilo estetico e quindi molti la cultura se la fanno di lì quante persone mi chiamano durante il mese mi dicono vorrei avere delle foto dei suoi cuccioli perché siano innamorato di questa razza dico benissimo e per farne cosa loro mi guardano stupiti c'è ovviamente la guardia e allora dico veramente c'è tanto lavoro ancora da fare nell'ambito della cinofilia in generale perché il fatto che tutti i soggetti sono uno diverso dall'altro questo vale tutte le razze per tutte le discipline per tutti gli impieghi e dovrebbe essere un concetto diffuso ma poi specialmente sul discorso cane da guardia che non si riesce ad intervenire con l'addestramento ma bisogna andare a scegliere diciamo nel mucchio quello che sarà poi in grado di adempiere a queste funzioni alle quali noi lo vogliamo assegnare allora dico sempre perfetto questi 20 anni praticamente come avessi parlato inutilmente perché molte persone continueranno sempre a scegliere quel cane che hanno trovato magari in un gruppo social hanno sentito a chiacchierare ha sentito l'entusiasmo degli appassionati di quella razza dove solitamente adesso sto facendo il videocorso che non so quando sarà finito sulla scelta del cucciolo più idoneo alla guardia e tratto proprio alcuni di questi argomenti cioè nel senso quale sia la differenza tra un cane e l'altro ma specialmente quale invece siano le credenze popolari bene allora vi ringrazio tanto di avermi ascoltato anche oggi vi assicuro che qui c'è da rimanere assiderati io non so loro come fanno a non patire io le mani che sono un pezzo di ghiaccio e quindi lo faccio un po più breve per il fatto che ho bisogno di andarmi a scaldare bene ragazzi allora oggi è sabato vi auguro una buona giornata staremo specialmente chiusi in casa loro no loro invece sono poi nel suo posto ecco guardate invece lui cioè è partito nel senso il suo posto ecco poi è bello bagnato quindi adesso dovrò dare da mangiare i miei cani adesso è pure pesante cioè con tutti i jeans bagnati però senza essere un mongolo magari sono un mongolo per altri motivi c'è guardate dove si è messo dove sono le mie gambe ma qui bisogna essere abbastanza resistenti per poter sopportare queste condizioni e lavorare per quando è l'inverno uno può stare vicino al cammino una cosa meravigliosa ma fra un orretto ci vado anch'io ma quando deve vivere così all'esterno tipo non so a quanto siamo meno domani saremo a meno adesso forse mi cade addosso ma non ce la possiamo fare ma cioè ma voi praticamente un cane così l'avete mai visto guardate adesso mi da qualche stampata maledetta cioè no no ma un po' di pietà per il vostro autorevole padrone proprietario dovete averlo o ragazzi allora niente a dire la verità io con questo tempaccio mi diverto anche un po' perché prima mi sono dimenticato che poi quando di dirvi quando nel deserto del gobi scendono questi tempacci poi arrivano i branchi di lupi fanno dei disastri ecco perché spesso hanno tutta una serie di cani che gli danno una mano e qui vivendo in una zona dove ci sanno tanti lupi domani mattina non sarà così difficile trovare delle impronte perché questo guardate è proprio un tempo da lupi sembra di essere nella tundra bene ragazzi allora buon sabato ci rivediamo se non sono rimasto assiderato domani per il solito filmato a presto